Questa è una storia antica, è una storia antica perché la mafia diventa mafia proprio perché riesce a trovare collegamenti, alleanze con la politica del malaffare. La mafia capisce che il vero business sono i soldi e con la politica se ne può fare tanti, mentre se continui a sparare o a fare le stragi quello non ti porta soldi, anzi ti porta repressione. Se tu spari per cui fa vedere il sangue per le strade la gente si rende conto che esiste la mafia. La politica si piega ai mafiosi e con loro fanno affari. La politica abbiamo visto in passato è riuscita anche a farsi infiltrare dalla mafia perché la mafia ha messo dei propri candidati in passato in Parlamento che poi hanno fatto gli interessi delle organizzazioni criminali. inserire nelle municipalizzate, nei consigli comunali o regionali, a volte anche in Parlamento, propri uomini. Cioè persone che possono essere ricattate, persone che sono deboli da molti punti di vista e che la mafia ha in pugno, però che hanno una faccia insospettabile. Le inchieste su Ndrangheta e Cosa Nostra, sia del passato che del presente, ci dimostrano il fatto che alcuni personaggi legati al mondo della criminalità organizzata facevano parte di logge massoniche perché erano il punto di contatto fra queste due realtà, mafia e massoneria, che purtroppo c'è stata e ci continua ad essere perché hanno a volte interessi comuni. Una rilevanza importante è quella che l'azione che sta facendo la commissione antimafia che ci porterà a vedere bene dentro le logge le persone che ci sono e queste come sono collegate alle mafie. I giornali non fanno i processi, i giornali raccontano e riportano notizie vere e documentate. In un giornale come tutte le redazioni sono le notizie quelle che comandano. La notizia è la regina di una redazione, è la padrona di un giornale. E ai nostri lettori e ai nostri ascoltatori noi diamo notizie, notizie vere, confermate, notizie che sono basate su riscontri e documenti. Si fa l'esame delle attività parlamentari di ogni singolo deputato che si sospettava fosse stato candidato dalle mafie e lì lo si può raccontare, cosa che non può fare la magistratura perché l'attività parlamentare non può essere sindacabile dalla magistratura. Ogni parlamentare è libero di fare quello che vuole per cui la magistratura non li può perseguire perché hanno presentato o meno un disegno di legge. Giornalisticamente questa è la forza del giornalista e della stampa, è quella di andare a fare le pulci, ad analizzare l'attività di un parlamentare. Quella che noi abbiamo dato su Ilaria Capua nel 2014 è una notizia super vera, eclatante, documentatissima. Infatti non abbiamo ricevuto nessuna querela e diffamazione da nessuna delle persone che abbiamo citato. Le notizie spesso, anzi quasi ogni giorno devono fare incavolare le persone che sono protagonisti delle notizie, ha fatto incavolare anche l'Area Capua. Ma non è colpa dell'espresso se l'Area Capua è stata indagata all'epoca per associazione per delinquere, con questa pesante accusa di essere insieme ad altri accusati di traffico di virus. La Procura ha dovuto in qualche modo prendere delle decisioni, se chiudere o meno un'indagine. Poi è stata chiusa e naturalmente molti di quei reati sono stati prescritti, altri per fortuna, è bene che la giustizia prevalga, è stata assolta, prosciolta la Capo, benissimo. Ma i giornali non fanno i processi, i giornali raccontano e riportano notizie. Mi dispiace che si è dimessa, ma non l'ha fatta dimettere l'espresso, l'hanno fatta dimettere i suoi colleghi parlamentari che hanno guattato le sue dimissioni.